Ma alla fine all'apice con Gaia hai cantato Tiziano Ferro? No, 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 non ho cantato Tiziano Ferro, non ho detto Tomodachi Crew, non ho fatto la Joker Face, non ho fatto niente di questo. Mi sono comportato da essere umano normale, o così si può dire, da persona normale, ecco. Però devo ammettere che durante gli amplessi qualche per forza e tocca ce l'ho messo. Vabbè ma lo dico io, è il mio parlato normale, cioè non è che ho citato un meme, non è che ho voluto memare durante la best, sono io che parlo, però è anche un meme più o meno e quindi era divertente, c'è stato anche divertente. La prossima volta tocca urlare Tomodachi Crew, non credo, non penso di trovarci neanche attrazione, diciamo eccitamento e sessualità nell'urlare Tomodachi Crew durante l'amplessi, cioè sarebbe anche poco contestualizzato, Tomodachi Crew! Cioè non può, non lo so, a me non verrebbe spontaneo dirlo, quando vieni Tomodachi Crew, è vero, quella sarebbe una stazione differente, che tipo inizi a eseguire il sesso, vieni in due minuti e fai Tomodachi Crew! Ciao!